Ciao amici! Oggi prepariamo una ricetta con due chiedenti solo. Prepariamo i lecca-lecca-girelle. Non sono dolci, sono salati. Ti servirà un lotero di patta a foglia e petto. Spanniamo il petto sulla patta a foglia. Ecco fatto! All'odoriamo! L'altro togliamo con la scarta a forno. Per tramontare un oretto in frigo. Ecco il noto allogero freddo. Lo tagliamo così. Ecco il noto. Ecco fatto, li mettiamo in forno, ecco i miei cari cattivelle, grazie per i like, un basso della secca d'ora, provateli, sono buoni!